Libriamoci è il nome dell'iniziativa promossa dai ministeri dell'istruzione e dei beni culturali per promuovere il libro e la lettura nelle scuole. Dal 29 al 31 ottobre le istituzioni scolastiche sono state invitate ad organizzare momenti di lettura d'alta voce, per condividere e diffondere l'amore per il libro e far abituare anche i più piccoli a trovare il tempo per leggere. Ministro, un suo messaggio agli studenti per promuovere la lettura? Io credo che ogni libro si ricrea ogni volta che qualcuno lo legge e qualcuno lo ripensa ed è lo strumento fondamentale per trasmettere conoscenze e anche per produrla. Quindi prendetevi il vostro tempo, è possibile anche in una società caratterizzata soprattutto dalla rapidità perché il libro è il luogo della parola e la parola è lo strumento per vedere il mondo e partecipare ad esso. Grazie alla collaborazione della Conferenza delle Regioni, Lanci, Rai Fiction e tanti altri entreranno nelle aule scrittori, attori, sportivi e amministratori locali per leggere ma soprattutto per crescere tutti insieme. Il primo a parlare di libri agli studenti è stato PIF che in occasione della presentazione del progetto ha incontrato nell'aula magna dell'Università di Bologna più di 800 giovani. La prima volta in Italia che per tre giorni in tutte le scuole italiane si tenterà di fare una lettura d'alta voce coinvolgendo vari attori della vita civile italiana che vanno dagli scrittori fino ai vigili urbani, l'ho citato perché è veramente un caso perché c'è un mare di gente che è predisposta volontariamente ad andare nelle scuole per trasmettere la gioia del leggere. Il problema è che non era mai stato fatto a livello istituzionale, fortunatamente questi due ministri hanno questa predisposizione, l'avete sentito anche voi, quindi l'idea vera è di tentare di iniziare un percorso che non si deve esaurire nei tre giorni ma deve continuare abitualmente come fanno in altri paesi.